Ciao, sono Giovanni Andolfi, sono un pensionato da dieci anni, sono uno dei tanti pensionati che cerca un ideale per poter continuare ad andare avanti. Sono all'università della terza età, per cui ho già un'attività abbastanza elevata. Un giorno si è acceso un faro a Marghera, non voglio fare il retorico, però è un'idea che mi ha affascinato immediatamente. La considero un omaggio a Venezia e Parallumier l'ho seguito dall'inizio, ho guardato tutte le mostre che ha fatto. Quindi Parallumier io se posso vorrei trasferirmi il mio entusiasmo di settantenne perché è un'idea, è un'idea, un omaggio a Venezia e sono convinto che non disturba affatto il paesaggio di Venezia perché è alle spalle di Venezia. E quindi per me è un'idea positiva e vincente perché è innovativa per il territorio di Marghera e nello stesso tempo è un grande omaggio a Venezia, lo considero un inchino alla città di Venezia, un inchino di quelli veri e non di quelli non veri. Vi saluto tutti e se potete prendetela come vostra idea vincente. Vi ringrazio, saluto.